Nel corso della storia l'umanità ha creato una moltitudine di sistemi economici e sociali differenti. Sistemi tradizionali, assolutismo, feudalesimo, comunismo, capitalismo, l'elenco continuo. Sebbene questi sistemi siano complessi, la verità è che sono stati creati dalle persone e possono essere modificati dalle persone stesse. Del resto, gli esseri umani sono legati in modo interdipendente tra di loro e con il pianeta. Il problema è che spesso questo viene dimenticato e i guadagni a breve termine vengono privilegiati rispetto al valore di lungo termine. L'io rispetto al noi, l'oggi rispetto al futuro, l'iniquità rispetto alla giustizia, i profitti rispetto alle persone e al pianeta. Portano a questo e a quest'altro. Tutti impatti negativi del nostro attuale sistema economico. Ma non deve essere per forza così. Possiamo passare dal generare profitto per pochi al garantire benessere per tutti. Dal concentrare ricchezza e potere al garantire equità. Dall'estrazione alla rigenerazione e dall'individualismo all'interdipendenza. Non si tratta di un ideale irraggiungibile. È la realtà che noi, il movimento delle B Corp, stiamo già costruendo in tutto il mondo. Permettiamo alle aziende di migliorare il proprio impatto sociale e ambientale attraverso i nostri standard e strumenti. Certifichiamo e coinvolgiamo le aziende che soddisfano questi requisiti. Incentiviamo le politiche pubbliche che estendono la responsabilità delle aziende al di là dei suoi azionisti. Gestiamo le comunità e le azioni collettive e amplifichiamo le storie delle persone che usano il business come forza positiva. Il movimento delle B Corp, guidato da B Lab e Sistema B, ha un impatto positivo su oltre 300.000 lavoratori di oltre 5.000 aziende in più di 150 settori e 77 paesi. Insieme stiamo trasformando l'economia globale a beneficio di tutte le persone, le comunità e il pianeta. Insieme realizzeremo la nostra visione di un mondo inclusivo, eco e rigenerativo. Uniscite al movimento.